C'è bisogno di apprendere più coscienza di questo strumento del nostro statuto, che è uno statuto molto importante, che è il nostro cuore, la nostra cassaforta, la nostra autonomia. Riforma perché? Certamente noi dobbiamo riscrivere le competenze che abbiamo ottenuto negli anni, per esempio attraverso le norme di adottazione, oppure anche tutte le ricorse che sono state vinte anche nelle riforme costituzionali, per esempio nelle corte costituzionali. Dobbiamo certamente chiarire meglio ciò che fa i compiti delle province autonome di Trento Pozzano e chiarire ciò che fa lo Stato, competenza, perché questo dà sempre alito a dei continui ricorsi innanzi alla corte costituzionale. Credo che siamo in un momento però molto delicato a livello politico, credo che sia in questo Parlamento non vi siano le condizioni per una riforma, ma tantomeno non credo neanche per il prossimo, almeno che non succeda un qualche cosa perché ci sono segnali non positivi nei confronti della nostra specificità trentina.